www.alizopoli.it, come al solito vi riporto un articolo con un link qui in calcio al video, l'imposta di successione ha abolito il coacervo ereditario, rimane quello donativo, imposta sulle donazioni, c'è la circolare del 19 ottobre del 2023, l'agenzia delle entrate, che ha modificato il precedente orientamento, rimane in essere l'imposta sulle donazioni, esente per quanto riguarda le franchigie, cioè una franchigia per quanto riguarda il conge, i figli, i nipoti, i genitori è per un milione di euro, 100 mila euro riguarda le donazioni a favore dei fratelli e sorelle, quindi fino a un milione di euro con il coacervo donativo c'è l'esenzione di imposta di successione, quindi un milione in vita, un milione in morte, tra virgolette, quindi una buona lettura per quanto riguarda questo particolare aspetto delle imposte. Alla prossima!